Ciao a tutti ragazzi Oggi io e Piccettino vi portiamo all'interno di un libro Torniamo a parlare di letteratura Parliamo di Oscar Cult, 13 euro Eccolo qui, Segurano o Il Cavaliere del Drago È tanta roba ragazzi, davvero tanta tanta roba È un libro particolare È un libro scritto, ricostruito e tradotto da Emanuele Arioli Di cui ho avuto modo di parlare Vi rimando all'incontro che c'è stato Trovate tutto sul mio canale al Centro Fumetto In cui si parlava proprio di questa avventura Questa avventura di cui questo libro è un po' il cuore Nel senso che ha generato altro microcosmo intorno a sé Ma qui dentro troviamo realmente ciò che Come posso dire, ciò che effettivamente ha dato il via a tutto Ma di cosa parliamo? Beh, intanto parliamo di Arioli Che è uno studioso, uno storico, un attore Ha fatto mille cose E lui ci racconta Innanzitutto ci racconta un po' la storia del ciclo atturiano E la sua storia per quello che poi è riuscito a fare Perché quello che è contenuto qui dentro È veramente molto molto particolare Qui dentro abbiamo la storia del cavaliere del drago Una storia frammentaria Una storia composta da varie Come posso dire Da varie parti Che lui ha ricostruito Trovandone nelle varie biblioteche E nei vari centri storici Diciamo di tutta Europa Facendo questa attività È riuscito a recuperare i capitoli Che parlano del cavaliere del drago Di Segurano È uno dei cavalieri della tavola rotonda Che, ve la faccio breve fondamentalmente A un certo punto della sua vita Si troverà ad essere A che fare con questo drago Che vedrà solo lui E questa maledizione Diciamo Lo costringerà in seguire questo drago Ovviamente La conclusione Non c'è Non arriveremo a capire Fino in fondo tutto Troveremo solo dei pezzi È molto avvincente E si fermerà Proprio quando Si arriva a parlare del Santo Graal Ovviamente il Graal Sapete Essere un po' Un punto focale Di tante storie Compresa Il ciclo arturiano E ragazzi È tanta roba Tanta roba Perché C'è una storia Nella storia C'è un'avventura Nell'avventura C'è un che Di Mistico Cioè voi pensate A questo ragazzo Perché alla fine È molto giovane Questo ragazzo Che per dieci anni Insegue Un cavaliere Insegue Le tracce Dei manoscritti Non vi ricorda Un po' Una sorta di Indiana Jones Una sorta di Martin Mister Ecco C'è molto Di questo Vi invito A rivedere la presentazione Che è stata fatta Perché ne parla Molto apertamente Ed è molto bello Perché Perché Trovarsi davanti A un pezzo di storia Di questo genere Capirlo E pensare di ricostruirlo È un'impresa Che io non so Quante persone avrebbero Potuto e voluto Imbarcarsi Farla e portarla A compimento E il suo portarlo A compimento È qui dentro Qui dentro Abbiamo Le traduzioni Il riadattamento Dei capitoli Principali Dei capitoli Successivi E delle varianti Barra aggiunte Alla storia principale Perché ovviamente La narrazione Non è Univoca Ma è composta Un po' Come tutte queste Genere di Di manoscritti Che ci arrivano Da quel Da quel Medioevo Che fu Inoltre abbiamo Un bellissimo Impianto grafico In cui ci vengono Mostrate Proprio Le scansioni Delle tavole Delle pagine Scusate Originali E poi abbiamo Tutta una biografia In fondo Le note Che ci aiutano A capire meglio Certe parti E il E un elenco Personaggi E termini Che è molto utile Anche perché così Non ti perdi nulla Davvero è Un volume Molto molto Completo Ripeto Costa 13 euro È della Oscar Cult Della Mondadori È un bel Brossurattino Con alette Lo trovate Senza problemi Fate attenzione Ecco questo ve lo devo dire Fate attenzione Perché come mi è già capitato Di sentire da qualcuno Di voi Quando andate Su Amazon E cercate il fumetto Tratto da Segurano Cioè il Cavaliere del Drago Quello di sempre Arioli Emiliano Tanzillo A un certo punto Troverete Formato cartaceo 20 a 990 E poi c'è scritto Formato Kindle Se cliccate sul Kindle Salda presa ancora Non è entrata Nel mondo del digitale Quindi vi rimanda Il Kindle di questo Quindi fate attenzione Perché magari pensate Di acquistare il fumetto E invece Comprate in Kindle Questo Che è sempre una bella lettura È sempre centrato Ma non è il fumetto Occhio Tra l'altro Vi posso dire Che è un volume Che vi scorre sotto il naso Ve lo leggete tranquillo Vi Vi emozionate Vi divertite Proprio perché È divertente Da leggere È un qualcosa Che ancora oggi Scorre bene Che ve lo digerite tranquilli E che vi incuriosirà Vi darà l'infa E voglia di approfondire Di capire qualcosa di più A dire Ma cacchio Trovate questo tipo Di narrazione Tutto molto scorrevole Tutto molto scorrevole Ovviamente L'adattamento Cerca di essere Il più scorrevole possibile Ma parliamo comunque Di un romanzo Arturiano Quindi abbiate pazienza Nel leggerlo Abbiate un pochino Di elasticità mentale Nulla di pesante Perché da però Un po' Di elasticità mentale Non guasta E cosa posso dirvi Posso dirvi Che secondo me È un'ottima cosa Esistono altre due cose Relative a questo Segurano Una Dovrebbe arrivare a breve Ed è Un altro fumetto Sempre Arioli Tanzillo Dedicato ai più piccoli Per la storia Questo ci metterò le mani Il prima possibile Appena esce Ve lo giuro E l'altro è Un documentario In francese Fatto Fatto Dalla Diciamo Dalla Francia Mi sono dimicato Di dirvi che Arioli Emanuele Arioli Vive in Francia Vive e lavora là E la Francia Gli ha dedicato Proprio un documentario Di circa un'oretta e mea Al momento so che Non è Non è stato acquistato Da nessuna parte In Italia Quindi non lo potete vedere Ma sappiate che esiste Sarebbe bello Portarlo anche in Italia Perché Chi era quella presentazione O ha visto il mio video Sa che la prima mezz'ora È un estratto Di quel Di quel video Di quel documentario E Io ho avuto modo Di vederlo tutto Il documentario Poi in separata sede Veramente molto bello Molto ben fatto Credo che sarebbe Una bellissima Unione Di tutto questo Per portarci A parlare Di questo cavaliere Qui tra l'altro Abbiamo un orgoglio Italiano Perché è una È proprio un italiano Che ha riscoperto E risistemato Tutto questo Quindi davvero Ragazzi Io ve lo consiglio Vi consiglio Vi consiglio di provare A leggerlo Provare ad entrare In questo mondo In questa strana Anche cultura Che un po' Non c'è più Così Affine Per carità Sappiamo tutti Per carità Però magari Rientrare in quei Meccanismi In quei Manierismi Da Da romanzo Cortese Ecco Mettiamola così Insomma È abbastanza È abbastanza Particolare Poi Se come me Amate roba Tipo il Don Quixote Che ne sancisce La fine Di questo genere Di narrativa Sapete un po' Però vi dico Ragazzi Per me è un sì È un sì Perché È una grande Impresa umana È una grande Impresa scientifica È una grande Impresa storica Ma soprattutto È un affresco Omnicomprensivo Che ti porta Anche Dal mio punto di vista A capire Come Come la Devozione Come la voglia Come il Lo spirito umano Possa Quando si incapponisce Quando decide Che questa cosa Deve fare E poi portarla a termine Emanuele disse Nella presentazione Che alla fine Del Graal Non Non si sa Non si arriva A concludere Capire qualcosa Dal mio punto di vista Il suo Graal personale Lo ha portato Lo ha trovato Quello che stava inseguendo Cioè la ricostruzione Il mettere in fila I tasselli Per darci la vita E la storia Di questo cavaliere Lo ha fatto Quindi da un certo punto di vista Io sto tenendo in mano Il suo Graal O almeno uno Dei suoi Graal Chissà quanti altri Ne riuscirà a trovare E portar fuori Perché davvero Qui dentro c'è Tanto C'è una grossa storia Con l'S maiuscola Con l'S un pochino più piccola Eppure con l'S minuscola Ripeto Emanuele Arioli Segurano O il Cavaliere del Drago Oscar Cult 13 euro Lo trovate tranquillamente Unitevi anche voi Alla scoperta Di questo Cavaliere Mangione Ecco Mettiamola così Perché mi è rimasta impressa Questa caratteristica sua Davvero ragazzi Buona lettura Ne vale davvero la pena Emanuele Arioli